Jessica Selassie sta affilando le unghie per la puntata di venerdì sera. Qualora Katia Ricciarelli non dovesse essere ripresa con un provvedimento come si deve durante la puntata del Grande Fratello Vip, lei abbandonerà la puntata ritirandosi nella sua camera. Se la cosa di Katia viene presa alla leggera, io me ne vado in camera e finisco la puntata lì. Se uscirò dalla casa del Jeff Vip, no, mica me ne devo andare io. La gente come lei deve andarsene. Se venerdì lasciano passare la frase razzista di Katia detta a Lulu, io mi alzo in piedi e me ne vado, ti giuro. Chi si alza con me? Anche Miriana Trevisan si è unita alla guerra della casa. Dovevamo ribellarci prima. Abbiamo capito che dobbiamo andare avanti con la giustizia. Però ragazzi, ero sola io prima a farlo, questo dovete ammetterlo. L'ho iniziata io questa rivoluzione. Anche Clarissa e Francesca. Però, l'ho iniziata io. Sono io che ho avuto il coraggio e ieri lo sapete cosa è successo e chi stavo difendendo sì. Cosa ne pensate di questa idea di Jessica e Miriana?